buongiorno a tutti e vi salutiamo qui dal CERN dal punto 5 e sull'acceleratore LHC io mi chiamo Sonia e qui accanto a me sono Davide di Croce e sì dunque ci presentiamo un attimo e siamo contenti di potervi descrivere il lavoro che abbiamo qui ci troviamo nella in quella che si chiama la sala di assemblaggio dell'esperimento e poi avrete modo in maniera di vedere dunque io mi chiamo Sonia Natale vengo diciamo sono ho studiato a Roma ma poi mi sono trasferita qui quasi casualmente per seguire un corso e non sono mai più partita quindi diciamo un po' è stato una specie di destino ho finito la mia tesi di laurea qui a Ginevra e dopo di che ho passato un anno al Politecnico di Ginevra ed infine ho preso un contratto di dottorato all'Università di Ginevra ho studiato fisica delle particelle elementari ma poi per il mio dottorato questa tutta questa diciamo fisica delle particelle elementari si è trasformata in un'applicazione per la costruzione di un esperimento di fisica delle particelle ma con l'intento di installarlo sulla stazione spaziale internazionale cosa che siamo riusciti a fare nel 2011 e tuttora è lì questo esperimento forse essendo voi italiani avrete seguito le ultime missioni di Luca Parmitano che ha dovuto fare quattro uscite extraveicolari proprio per riparare e sostituire alcuni pezzi di questo rivelatore. In parallelo a questa mia diciamo all'attività di ricerca quello che faccio mi piace comunque eh implicarmi nella nel settore della comunicazione della divulgazione e anche tutoring e insegnamento quindi mi sono contenta proprio di poter interagire con voi studenti e l'unica cosa che vi dico non ci sono domande sciocche o domande intelligenti le domande sono domande quindi non abbiate remore a chiederci tutto quello che eh desiderate anche ciò che riguarda per esempio eh la vita di un fisico come si svolge che cosa facciamo lascio a te la parola Davide salve a tutti sono Davide ehm ho lavorato qui a CMS vengo da Roma eh però non vivo in Italia da quando ho i miei quattordici anni quindi ehm sono un ricercatore e un fisico ho lavorato otto anni qui a CMS quindi facendo fisica di particelle eh adesso ho cambiato area sono un fisico di acceleratori quindi lavoro facendo design di acceleratori lavoro in un design per un acceleratore futuristico sempre qui al CERN ehm lo posso spiegare dopo FCC ehm questo già è il più grande al mondo né a ventisette chilometri c'è un design per farne uno di cento chilometri quindi lavoro per il design di questo questa macchina futuristica ehm eh sì adesso io allora dunque quali sono i nostri ruoli oggi io eh mi dirigerò sarò la vostra guida se volete i vostri occhi per la visita eh sotterranea quindi tra un po' mi vedrete entrare nella zona sperimentale descrivere un po' le regole di sicurezza che sono molto importanti penso che Davide possa anche assicurarlo per tutti gli altri studi in ogni campo eh di ciò che noi svolgiamo svolgiamo qui al CERN e e quindi mi seguirete e nel frattempo invece Davide si occuperà di darvi una diciamo una un'introduzione e di spiegarvi un po' meglio partendo dal dall'acceleratore stesso eh essendo lui un esperto eh per eh giungere all'esperimento CMS appunto che che abbiamo proprio qui noi sotto ai nostri piedi quindi tra un po' mi ritroverete io adesso abbandono Davide no ti lascio in maniera diciamo gentile eh lascio la parola a Davide qui e mi preparo per poter scendere e scenderò rispetto al punto dove mi trovo a cento metri sotto terra a tra un po' grazie Davide io comincio a spiegarvi eh che cosa è che cosa facciamo qui che cosa è fisica di particelle vi spiego molto velocemente eh la fisica di particelle si studia ehm che cosa sono gli elementi eh fondamentali dell'universo eh abbiamo due gruppi di particelle noi chiamano fermioni e i bosoni e i fermioni è tutto quello che compone la materia e poi ci sono i bosoni che sono le particelle che creano i campi e quindi sapete elettroni, protoni, neutroni sono fermion poi per esempio nel caso nel caso dell'elettromagnetismo per esempio quando ci avete due cariche una positiva negativa c'è il campo elettrico penso che l'avete già studiato però per i fisici di particelle quel campo veramente è come se fosse uno scambio di bosoni nel nel caso dell'elettromagnetismo è uno scambio di fotoni che è la particella della luce e poi ci sono altre forze altre interazioni quindi ehm interazione gravitazionale c'è un campo gravitazionale c'è un bosone per quel campo gravitazionale poi ci sono altre forze e quello che è più in height è il bosone di Higgs non so se l'avete mai sentito che è il bosone che crea un campo che dà massa ad altre particelle io ho lavorato fatto la ricerca del bosone di Higgs qua c'è messo per sei anni e adesso voglio far vedere il CERN quindi noi studiamo queste particelle e per fare questo abbiamo bisogno di energie molto alte abbiamo bisogno di costruire acceleratori e voglio fare lo CERN del complesso quindi questo qua in giallo che vedete questa linea giallo è l'HC a 27 chilometri è la macchina più grande mai costruita dall'uomo e noi ci troviamo qua non so se vedete il mio mouse e CMS e ci sono altri sperimenti all'HCB Atlas e Alice e vi voglio far vedere come si accelerano ecco adesso penso che si possa far vedere allora qua sotto abbiamo un acceleratore più piccolo e accelerano i protoni abbiamo poi un secondo acceleratore chiamato SPS che accelerano i protoni a 99.9998 la velocità della luce e poi come vedete i protoni vanno a quello più grande che è l'HC in direzione opposte per avere la collisione già quello prima non fa collisioni frontali e quindi poi i protoni sono accelerati dentro questo l'HC e ci saranno le collisioni su questi quattro punti come potete vedere quelle una sopra e tre sotto quello sopra dove stiamo noi CMS a me piace questa visione vista dall'alto perché potete vedere qua in basso a destra e la runway la la pista di decollaggio dell'aeroporto di Ginevra che riceve ovviamente heavy aerei pesanti quindi deve avere perlomeno due chilometri e mezzo quindi potete avere una nozione della grandezza di CMS e quindi ritornando alle slide e qua ti faccio vedere velocemente Davide? Sì. Scusa no no interrompo soltanto per dire una piccola cosa visto che hai parlato della pista dell'aeroporto eh appunto io parlavo dell'esperimento che è stato installato sulla stazione spaziale effettivamente su quella pista eh il 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 29 agosto del 2010 è arrivato un aereo un grande aereo militare un galaxy dell'aeronautica militare americana perché l'esperimento in realtà è ehm eh come dire ospitato è stato ospitato al CERN ed è ospitato ancora per la sala di controllo ma eh il eh è un esperimento della NASA di fatto eh e altre altre istituzioni quindi avevamo questo enorme aereo che ha prelevato l'esperimento che avevamo costruito al CERN e e l'ha portato proprio in Florida per il lancio dove oggi eh non in Florida in realtà ma in Texas eh ma dove di solito si fanno i lanci dei vari dei vari razzi della SpaceX. Oggi giusto per chiudere la parentesi c'è il lancio del nuovo del nuovo razzo non so se lo sapete che farà un'orbita intorno alla Terra questa sera alle 21 ci sono dei collegamenti quindi se per caso i ragazzi fossero interessati è di fatto il razzo che dovrebbe poi portarci sulla Luna e anche su Marte quindi è la prima prova di tecnica. Chiudo la parentesi quando vuoi darmi la parola sono pronta per entrare. Grazie. Sì 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 mostra pure allora Sonia dimostrerà come si entra dentro il dentro il CMS dentro la la caverna sperimentale quindi eh sì. Vuoi che comincio io? Sì 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 dopo spiego un po'. Va bene grazie mille. Allora innanzitutto cosa vi serve per poter entrare? Questa è la porta da cui entriamo una porta per persone quindi non possiamo trasportare materiale vi farò vedere la porta per il materiale successivamente e per poter entrare per poter accedere ho bisogno di quello che si chiama un dosimetro personale eccolo qui questo è il mio dosimetro personale che cos'è un dosimetro è un oggetto che permette di misurare la dose di radiazione a cui uno è sottoposto questo oggetto qua ehm ora io non non ho domandato di che anno siete ma eh eventualmente ehm faccio un piccolo accenno è un oggetto che funziona come gli integrali se siete di quinto eh è un oggetto che somma la radiazione quindi io lo porto su di me e ogni volta che accedo una zona sperimentale dove ci potrebbe essere un residuo di radiazione questa viene accumulata dopodiché ho ehm ogni mese devo fare una lettura in più è un siccome personale è un oggetto di riconoscimento quindi adesso io lo andrò a eh far controllare su questa postazione ed entrerò nella porta si apriranno le porte quali sono i controlli a cui sono sottoposta un controllo è di peso adesso Noemi vi farà vedere c'è un quadrato con tanti puntini gialli non so se riuscite a intravederlo sì questo qui eh in questo quadrato io entrerò metterò i miei piedi e di fatto quello che viene controllato ovviamente non vedo esattamente quanto peso ma il sistema controlla che si tratta insomma di una persona c'è una certa diciamo un c'è un certo intervallo di peso dopodiché c'è un altro controllo che sono dei fasci infrarosso che che vanno a controllare se io introduco del materiale per esempio con uno zaino cosa che non è permessa attraverso questa porta terzo e ultimo controllo io non so se voi avete visto il film Angeli e Demoni perché mi sembra che ultimamente quando lo chiedo i ragazzi mi dicono che non lo conosco non lo conoscono comunque un film che inizia proprio al CERN con ehm il furto di antimateria e c'è una scena che coinvolge proprio questa porta che non vi dirò perché se non l'avete visto vi faccio un po' di spoiling quindi non vorrei ma è importante il test biometrico cioè del riconoscimento dell'iride che ovviamente noi abbiamo depositato al CERN quindi è un riconoscimento personale e la macchinetta per riconoscerlo è questa macchinetta qui che Noemi sta inquadrando dove io mi soffermerò per farmi riconoscere dal sistema se tutto procede bene eh dovrai riuscire ad entrare e poi aspetterò Noemi quindi io parto con il riconoscimento della come vedete le porte si aprono e in questo momento quello che faccio è il riconoscimento dell'iride è stata presa una foto le porte si aprono e quindi vuol dire che sono passata adesso la stessa cosa verrà fatta da Noemi ehm che è bravissima perché lei entrerà con la nostra webcam ehm c'è un modo insomma di far entrare degli oggetti in una certa maniera e vi farà vedere proprio attraverso la eh la telecamera qual è il riconoscimento ecco qui siamo nella zona sperimentale ma ancora di superficie ora entriamo e come vedete se mi seguite da quest'altra parte forte ok so ehm yeah when they arrive at that point they can lose the connection so I will keep continuing my explanation ah scusate ragazzi io a volte io do lezioni in inglese quindi mi viene automatico parlare in inglese scusate ragazzi ma scusate Davide ah è ritorna da Sonia sì ah è vero persa dove mi hai persa dove mi hai persa là vicino vicino all'ascensore ah ok scusate eh vicino all'ascensore eh si è sentito della delle porte verdi no ah ok quello che dicevo quindi non si è visto cioè questa cosa qua sono altre due porte verdi dove effettivamente c'è l'accesso ma è sempre per le per il personale mentre invece i visitatori quindi se foste venuti qui vi avrei dovuto far entrare per la porta del materiale che è questa blu ok questa è la porta per il materiale di fronte a noi abbiamo l'ascensore che io come vedete eh sta quasi arrivando siamo quasi abbiamo tre livelli zero che è la superficie meno uno circa meno ottanta metri meno due meno novanta metri meno tre meno cento metri io mi dirigerò a meno due e mentre lo aspettiamo forse possiamo far notare abbiamo un contatore numerico che conta quante persone stanno accedendo eh sotto e abbiamo un chip sotto sopra ogni casco proprio per poter verificare questa cosa allora io entro nell'ascensore vi faremo vedere come scendiamo però in questo momento la connessione si perde quindi Davide tra un po' la prenderai tu e ci ritroveremo sotto a tra un po' meno due allora ritornando vi spiegherò che cosa è un rivelatore ehm vi ricordate che ho detto che ci sono quattro rivelatori e in quei rivelatori sono installati dove ci sono le collisioni il rivelatore sono queste uno queste questa macchina di grande eh di quindici metri di altezza non so se si può capire ma è altissimo e e e ah sì allora aspetta mi ha detto mi vedrete fra un po' lì allora sono a quindici metri di altezza solo per farvi capire quanto è grande questa e e loro sono costruiti per rivelare le particelle eh che cos'è un rivelatore allora è come la vostra macchina fotografica la vostra macchina fotografica è un rivelatore però rivela delle particelle specifiche lo sapete quelle particelle potete rivelare con la vostra macchina fotografica qualcuno lo sa sono i fotoni i fotoni sono le particelle di luce e e sono rivelate dalla vostra macchina fotografica e soltanto che qua invece di rivelare solamente i fotoni riveliamo delle altre particelle e ne abbiamo differenze il cms fatto in strati e ogni strato livella un tipo di particella differente e adesso dalla parola a sonia che sta pronta già giù per farvi vedere no ma ero molto ero molto interessata grazie davide ero molto interessata stavo appunto volevo avevo ero curiosa di 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 capire se ti potevano rispondere cosa e cosa i ragazzi hanno risposto sì effettivamente i fotoni sono quelli che riveliamo allora dove mi trovo adesso dunque per farvi vedere che non sto nascondendo quindi qui abbiamo l'ascensore probabilmente si apre anche eccolo qui e siamo a meno due cioè quasi come vedete meno ottantasette virgola nove quindi quasi meno novanta metri questo è il livello intermedio come vi ho detto ne abbiamo tre abbiamo eh il meno uno che meno ottanta all'incirca il meno due che meno novanta come avete visto e poi abbiamo il meno tre che meno cento per quale motivo scendiamo qui questo è il modo diciamo il livello migliore quando vogliamo ehm entrare nella caverna purtroppo nella caverna sperimentale purtroppo oggi non potremo entrare purtroppo per noi ma eh bene per l'esperimento perché si stanno facendo dei dei test e e perché l'HC ha cominciato a funzionare ehm questa sala è molto importante come avete visto è proprio di fronte all'ascensore ed è il posto dove nel caso in cui ci fosse per esempio un allarme evacuazione dobbiamo tornare e siamo sicuri siamo in sicurezza per quale motivo? Perché l'ascensore e tutta la diciamo la tromba dell'ascensore e e questo a zona sono sovra pressurizzati eh che cosa significa? Che l'aria viene pompata verso l'esterno eh quindi nel caso in cui ci fosse per esempio un incendio con produzione di fumo oppure perdite di gas perché usiamo dei gas nell'esperimento qui dentro non può entrare niente poi come vedete abbiamo delle belle e pesanti porte ignifughe che ci proteggono dal fuoco quindi questa è la zona dove eventualmente un un gruppo di visitatori deve fermarsi eh nel caso in cui ci fosse un allarme dopodiché come si esce? Abbiamo anche delle scale ovviamente ma l'evacuazione si fa attraverso l'ascensore di nuovo perché? Perché l'ascensore come vi ho detto la tromba dell'ascensore è protetta e sovra pressurizzata mentre le scale non lo sono. L'unico diciamo l'unico l'unico modo di poter usare le scale è se i pompieri arrivano e giudicano che si può andare in sicurezza però vi ricordo eh ora voi sicuramente siete più giovani di me ma se fate una piccola divisione siamo quasi meno cento e ogni piano in media sono tre metri vi rendete conto che siamo a circa meno trenta piani sotto il livello sotto la superficie per cui fare risalire trenta piani non è facile soprattutto in affanno e sapendo che magari abbiamo il fumo che ci sale ci va dietro quindi eh abbiamo anche dei sistemi di sicurezza come vedete estintore eh primo soccorso eh possiamo far partire anche noi l'allarme evacuazione e abbiamo anche un telefono eh che ci permette di parlare direttamente con i pompieri che loro sanno esattamente qual è la locazione di questo di questo telefono basta semplicemente sollevarlo in più per non farci mancare nulla abbiamo anche quello che io chiamo il grande fratello the big brother che non sono altro che tutte le webcam che ci seguono dalla sala di controllo per poter controllare che effettivamente tutto è a posto. Io ora entro nella zona però una breve descrizione poi magari do un attimo la non so la parola a Davide per continuare e poi mi dirigerò sulla nella counting room. Allora entriamo proprio nella zona sperimentale allora proviamo a farvi vedere la superficie se ci riusciamo vediamo e adesso chiedo a Noemi che è veramente una maga per questo eh dovreste vedere in alto un rettangolo chiaro lo vedete proprio al limite della della del bordo giallo di quella banda gialla e quel rettangolo chiaro non è altro che il soffitto di dove eravamo prima sopra quindi vedete esattamente che cos'è questo grande buco diciamo così questa grande eh lo chiamiamo pozzo in italiano effettivamente la parete bianca che vedete sulla sul che vedete sulla vostra almeno sulla vostra sinistra dovreste vederla è la parete dell'ascensore questo grande pozzo serve per poter trasportare trasportare materiale eh diciamo abbastanza agevolmente utilizzando una gru da dalla superficie fino al meno cento adesso proviamo a farvi vedere il meno cento il meno cento dovreste vederlo vediamo se ci riusciamo perché qui abbiamo una griglia ma dovremmo riuscirci a vederlo se se fate attenzione oltre la griglia dovreste vedere vediamo un po' se ci riusciamo io non so adesso però cosa state guardando dunque allora avete una un fondo eh scuro con delle bande gialle e nere e una struttura gialla quello è il meno cento in più eh si dovrebbe vedere forse ci riusciamo una parete grigia non so se riuscite a vederlo una parete grigia che oltre questa griglia verso il basso allora che cosa succede cerco di darvelo dopo una mappa seria però cerco di darvi la posizione del diciamo com'è la com'è com'è la 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 mappa qui allora abbiamo due caverne che sono un accanto all'altro per essere corretta se Noemi mi segue sono messe così ecco in questa direzione quindi ho l'ascensore da quella parte questa caverna qui che è lunga e stretta si chiama caverna di servizio e nella caverna di servizio metto tutte le cose che mi sono necessarie per il funzionamento dell'esperimento da dall'elettronica a contenitori di gas acqua eh elio liquido azoto liquido eh gli alimentatori tutto quello che può servire per il buon funzionamento dell'esperimento che dov'è è in parallelo in un'altra caverna che è più corta di questa qui è un po' più larga quindi di fatto io ho la caverna sperimentale proprio sulla mia destra e quel muro che vi dicevo effettivamente cosa cosa fa chiude un grande corridoio che ha lo spessore di circa sette metri eh lo chiude completamente con dei blocchi di cemento perché perché normalmente quando non c'è la fisica cioè quando non funziona l'elettronica non funziona l'esperimento quel corridoio è più è aperto quindi si trasporta il materiale dall'alto lo si porta almeno cento e si accede direttamente alla caverna attraverso questo corridoio è uno dei modi di accedere non è il solo ma diciamo che è quello uno dei modi agevoli per il materiale adesso ovviamente dobbiamo chiuderlo perché la caverna deve essere totalmente ehm chiusa per il fatto della della fondo di radiazione che si produce e quindi sette metri di spessore che chiudono questo corridoio e quindi in questo momento non possiamo vedere non possiamo vedere niente qualche altra cosa che volevo dirvi magari qui perché non so se avete visto filmini è qualche informazione sulla costruzione diciamo così di questo luogo qui vedete alcune foto di quando eh è stato sono stato sono proprio cominciati i lavori cioè quando abbiamo cominciato a fare questo grande eh buco dove poi abbiamo fatto queste due caverne e la prima cosa che che ci è capitata io essendo di Roma ma anche Davide quindi diciamo che noi in Italia lo sappiamo eh a Roma dove scavate scavate trovate qualcosa dei romani e anche qui abbiamo trovato una villa romana eh quindi ci sono stati un attimo i lavori sono stati bloccati poi dopo insomma si è trovata una soluzione so che le monete che sono state reperite qui sono in esposizione in uno dei nostri edifici al CERN come vedete qui c'è la parte dove abbiamo cominciato a fare il foro per poter poi fare le caverne e una cosa che è interessante il fatto che scendendo ovviamente uno si aspettava di trovare delle falbe acquifere è normale il fatto è che si è trovato proprio un fiume e quindi è stato molto problematico continuare i lavori quello che poi è stato fatto alla fine e quest'acqua è stata congelata usando dell'azoto liquido che l'azoto è liquido a meno centonovantasei gradi Celsius quindi si è tutto congelato si è messo poi il eh cemento tutto intorno e poi si è continuato e di fatto quello che si è costruito eh questa forse questa foto è interessante perché questa mostra la caverna quella sperimentale non quella dove sono ma ehm senza il rivelatore vedete che c'è un grande buco qua un grande pozzo questo non è il pozzo che vi ho mostrato proprio due istanti fa il pozzo che vi ho mostrato due istanti fa e spostato da questa parte questo qui è un grande pozzo il cui diametro corrisponde al diametro dell'esperimento di cui poi eh adesso vi comincerà a parlare Davide e che io vi mostro già come foto eccolo qua questo è la sezione trasversale dell'esperimento questo è il diametro che corrisponde a quel a quel a quel pozzo e per quale motivo perché effettivamente come vi dicevamo all'inizio l'esperimento è stato totalmente assemblato in superficie e poi è stato calato quindi calato attraverso quel 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 pozzo ehm Davide io non so ti darei la parola a questo punto sì eh e ti aspetto poi eh e poi ti farei quello che farei ehm eh ti aspetto nell'accounting room e faccio vedere un po' di cose magari diciamo qualche piccola cosa anche se per me lì è molto rumoroso ti aspetto lì magari puoi dare qualche informazione in più sul sull'esperimento se vuoi sì va bene prego continuando sull'assemblaggio l'assemblaggio è stato fatto qui e e quel pozzo che lei che eh Sonia stava facendo vedere è veramente sotto questa piattaforma che che è qui ehm io continuerei la descrizione del rivelatore ah sì adesso sto facendo vedere il pozzo il pozzo sarebbe questo c'è una piattaforma si apre e ha accesso esattamente alla caverna sperimentale dove c'è lo sperimento e e faceva vedere che è della grandezza dello del del rivelatore di 15 metri e Sonia adesso sta facendo vedere il la 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 counting room non so se la vedete adesso sì non so se vuole se vuoi Davide io posso fare qualche come vuoi sì sì allora questa è la io parlo parlo non parlerò moltissimo perché qui per voi lo so che voi il sistema è perfetto voi non sentite niente ma c'è tanto rumore perché ovviamente tanta elettronica quindi tanto calore e quindi tante tante ventole eh allora adesso come vedete qua normalmente i visitatori non ci possono andare ma noi andremo nei corridoi ehm vi descrivo allora vi direi non descriviamo ogni modulo ovviamente ma questa è parte del cervello dell'esperimento cioè senza questa elettronica non siamo in grado di elaborare e capire che cosa abbiamo ricevuto dalla parte dell'esperimento che si trova nell'altra nell'altra caverna quindi vedrete tanti cavi questi cavi sono o cavi diciamo così che somigliano molto ai cavi che usate a casa diciamo così o fibre ottiche eh che vengono usate molto le usiamo moltissimo adesso perché la trasmissione è migliore e quello che vi chiederei di notare quando passeggeremo all'interno è la maniera del cablaggio eh l'ordine la meticolosità ehm c'è una parete che mi piace moltissimo ve la mostrerò alla fine non perché abbia un significato particolare è una parete si dice di high voltage cioè di alimentazione ehm di alto voltaggio ma la cosa che mi stupisce sempre nonostante io non so se Davide tu hai fatto cablaggio io ho fatto cablaggio di fibre ottiche soprattutto mi è capitato di farlo eh nella nella mia carriera e vi posso assicurare che nel momento in cui si fa questo tipo di cablaggio bisogna veramente essere concentrati avere pazienza metti su velocità spirito di osservazione e questa è una delle caratteristiche eh che un fisico normalmente deve sviluppare e anche se poi magari uno di voi volesse fare fisica e poi decide di fare un'altra cosa perché magari non so ha cambiato ha ha cambiato mi viene in mente una cosa perché non so se lo sapete sapete la cantante Anna Lisa la cantante Anna Lisa ora io mi rivolgerei a Brian May perché è un astrofisico condottorato ma la no la cantante Anna Lisa italiana è laureata in fisica non so che che tipo di branca abbia preso ma laureata in fisica io mi aspetto che la miticolosità che lei ha imparato studiando fisica non sia stata perduta e che anche nel suo modo di lavorare adesso che fa qualcosa di totalmente diverso sia comunque più o meno la stessa quindi è una caratteristica che viene sviluppata proprio in questo tipo di lavoro quindi adesso io niente facciamo una passeggiata vi facciamo vedere eh Davide non so se vuoi tu dire qualcosa su sui sì su sul trigger altrimenti posso continuare io come vuoi posso spiegare cosa servono queste questa elettronica questi computer fanno allora all'HC abbiamo una frequenza di di collisioni di 40 milioni di hertz quindi significa che ha una collisione di 40 milioni ogni secondo e abbiamo bisogno di un filtraggio di queste collisioni per salvare i dati se fossero salvati tutte ogni 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 volta che i protoni si scontrano ci sono 50 collisioni moltiplicate per i 40 milioni poi un milione di di rivelatori dentro il rivelatore sono molto dati corrisponde penso a 15 petabyte al secondo sì e quindi sarebbe impossibile salvarle tutte ci sarà questo sistema che filtra da 40 milioni a mille collisioni al secondo e rende possibile lo studio della fisica e questa decisione di salvare i dati è fatta in 25 nanosecondi perché è la distanza fra le collisioni quindi potete pensare che questo questo sistema è molto molto veloce per prendere la decisione di salvare e poi là c'è anche il sistema di DAC non solamente trigger ma anche il DAC che significa data acquisition acquisizione dati e quindi è il ci sono dei computer che prendono i dati che vengono dal dei rivelatori e li manda in superficie e lì lì è formata davide sì a me piace dire che appunto che questa è parte del cervello del dell'esperimento è effettivamente la grande noi abbiamo un'altra parte del cervello diciamo la parte superiore se volete che invece si trova in superficie questo questa parte qui la chiamiamo livello uno in realtà tradizionalmente eh negli esperimenti ehm non so se a tua conoscenza tu sai se gli altri hanno ancora tre livelli perché diciamo che prima si funzionava a tre livelli cioè tre come vi ha detto Davide filtro quindi di fatto prendiamo i dati della caverna ma non li manteniamo tutti dobbiamo capire quelli che sono importanti quelli che ci interessano e quindi li li filtriamo così come quando togliamo l'acqua dalla pasta se volete ehm in questa in questa zona facciamo un tipo di filtraggio che è di tipo hardware cioè quello che facciamo selezioniamo soltanto dei dati che rientrano all'interno di finestre per esempio di ehm di segnali di corrente o segnali di voltaggio o segnali di carica vi faccio un esempio un segnale se vogliamo raccogliere solo i segnali che sono compresi tra cinque millivolt e quindici millivolt tutti gli altri saranno totalmente eh rigettati ok e passano solamente questi di questa finestra ehm e in più come vi diceva Davide c'è un'altra cosa facciamo una cosa molto importante perché è vero che noi misuriamo le particelle come i fotoni, i protoni, gli elettroni all'interno del rivelatore ma è anche vero che nel momento in cui riceviamo il segnale noi abbiamo soltanto l'interazione che queste particelle hanno fatto nel rivelatore la particella stessa non ce l'abbiamo più ma ce la ricostruiamo virtualmente che cosa vuol dire? In questa zona ricostruiamo attraverso le informazioni che l'elettrone vero la particella ci ha dato all'interno per esempio ricostruiamo questo oggetto software che è un elettrone virtuale se volete e questo pacchettino chiamato elettrone oppure chiamato protone o chiamato antiprotone o antielettrone o fotone o muone sono una uno zoo di particelle viene inviato nella parte superiore del trigger che è in superficie dove lì si fa ancora un'ulteriore selezione ma questa selezione è proprio software che cosa vuol dire? a quel punto non guardo più le correnti non guardo più il voltaggio non guardo più la carica che cosa guardo? Guardo semplicemente raccolgo i miei elettroni e per esempio magari Davide può prendere l'occasione mentre io scendo giù per spiegarlo per esempio prendo dei muoni e dico voglio concentrarmi soltanto su dei muoni che abbiano una certa energia una certa angolazione nel rivelatore un certo impulso perché io so che gruppi di quattro muoni con una particolare configurazione possono essere stati prodotti da un bosone di Higgs questa è una delle tante ricerche che facciamo ma come vedete lo facciamo su oggetti che ormai sono virtuali perché quando parlo di muoni in superficie non ho più la particella muone in mano ma ho soltanto come dire la carta di identità di quello che il muone dentro il rivelatore il vero muone fisico mi ha prodotto vi faccio vedere questa parete e poi do la linea di nuovo a Davide per continuare eccola qua questa è la mia parete preferita per me è una è una produzione artistica quasi direi come la Gioconda a Louvre perché veramente guardate che cablaggio e tenete conto che ogni cavo la lunghezza di ogni cavo è stata misurata perché come vedete adesso mi avvicino leggermente facendo attenzione come vedete ogni cavo pende ma deve seguire la curvatura naturale del cavo non è che lo tiriamo perché ovviamente altrimenti abbiamo una cattiva connessione oppure possiamo non avere totalmente la connessione lo rompiamo il cavo lo rompiamo il filo che c'è dentro quindi come vedete ogni cavo viene di fatto misurato e la lunghezza che viene lasciata è esattamente quella eh necessaria per poter avere quello che in inglese si chiarerebbe un buon routing ehm Davide ti lascio tradurre routing e mi dirigo sotto va bene va benissimo ehm allora io continuerei con la spiegazione come come è fatto il CMS eh o se no sì sì continuerei con questa spiegazione ehm allora stavo dicendo che era fatto come una cipolla con vari strati ogni strato ha una sua importanza per rivelare certe caratteristiche per identificare le particelle e quindi io penso che puntando là sul sul qua possiamo vedere il CMS la parte più interna abbiamo il tracciatore in giallo e lui è responsabile di rivelare tutte le particelle che hanno carica come questo rivelatore ha un campo magnetico forte che all'epoca era quello più forte esistente di 4 Tesla 3.8 Tesla e con il campo magnetico se la particella ha una carica positiva fa la curvatura da una parte se c'è la carica negativa la fa dall'altra quindi possiamo pure possiamo pure identificare le le particelle ehm per la loro carica adesso qua c'è uno slide carino che si può si può capire che cosa possiamo rivelare poi abbiamo un altro rivelatore che il il calorimetro che è quello in blu ehm ah che qua in giallo scusate questa foto in giallo e lui questo rivelatore rivela tutte le altre particelle e misura la loro energia e questo è importante perché possiamo pure misurare le particelle che non hanno carica come i neutroni e i fotoni le particelle di luce poi come ho detto qua in blu abbiamo il il supercondotto il magnete superconduttore e alla fine sono le uniche particelle che sopravvivono ai calorimetri perché hanno pure una funzione di di fermare le particelle sono i muoni e sono le particelle che non si possono fermare ma si possono rivelare perché hanno carica quindi hanno questa questa queste rivelatori fatti con delle camere con dei gas e e e si sono rivelata la loro carica come un tracciatore come all'inizio però l'unica particella che sopravvive che passa da del calorie che passa dal calorimetro e il sono i muoni sono altre particelle che non vengono ovviamente eh rivelate che sono i neutrini però non sono 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 la loro energia possono essere calcolare di altre forme passo la parola a Sonia che sembra che sta dentro il tunnel di LHC ma sono ma sono nel tunnel di LHC vedete? Allora questo è il selfie point di fatto vi mostriamo com'è in realtà è una grande foto molto bella dove le persone si fermano e come vedete se uno allarga la prospettiva poi si rende conto che effettivamente non sono all'interno del tunnel perché perché abbiamo messo questa foto perché in realtà invece se mi segui Noemi mi segue un attimo da questa porta potremmo veramente accedere all'LHC eh questa è una porta che però è piombata quindi non si può aprire eh quindi uno dice perché metti una porta se non la puoi aprire eh effettivamente non è che la usiamo per andare all'LHC non allora innanzitutto le persone di CMS non è che sono autorizzate a entrare nell'LHC bisogna avere un permesso speciale bisogna doverci lavorare eh e quelli che lavorano direttamente all'LHC non vengono a CMS e per entrare all'LHC da questa porta in realtà come vedete forse l'avrete notato è una seconda via di fuga quindi eh io sono venuta adesso proviamo a farvelo a centottanta gradi cioè di spalle sono venuta da questa parte sono entrata da questa parte ma eventualmente se quel percorso non fosse possibile usarlo in caso di allarme evacuazione si può usare questo qui fatto presente una cosa qui c'è una striscia di led che in caso di allarme evacuazione si accende se la striscia di led è rossa e poi c'è il segnale appunto di stop non si può entrare perché che cosa vuol dire vuol dire che il problema di incendio di fumo di perdita di gas vi ricordo quando parlo di perdita di gas parlo anche di fuoriuscite l'elio diventa da liquido diventa gassoso in un quinto di secondo quindi se c'è un problema da eh oltre questa porta si accendono i led rossi invece se rimangono bianchi perché comunque si accendono perché le luci si abbassano quando c'è l'allarme evacuazione e ci sono luci gialle che lampeggiano allora in quel caso si può usare questa porta fermo restando che la si usa soltanto se l'altro cammino non è accessibile perché cosa c'è oltre questa questa porta si arriva al tunnel delle delle lhc ma c'è anche un secondo ascensore e allora forse a questo punto mi è più utile mostrare una mappa come vi avevo promesso ora eh mi dispiace perché la mappa è in orizzontale dovrebbe essere in verticale per mostrare la 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 vera eh situazione quindi immaginatevela ruotata di novanta gradi allora questo è l'ascensore da cui sono entrata io stiamo entrati dentro questo è il pozzo da cui vi ho fatto vedere il soffitto all'inizio proprio e da cui vi ho fatto vedere in meno cento dopodiché questa parte qua è quella che viene chiamata la counting room quella dell'elettronica dove ci siamo abbiamo passeggiato all'interno dei dei corridoi e la porta rossa si trova proprio a questo angolo ora come vedete corridoio e si arriva all'lhc che cos'è l'lhc è questa questa bacchetta orizzontale che vedete andare proprio al centro della seconda caverna che è la caverna del rivelatore ma c'è un secondo corridoio che porta a un secondo ascensore ora la cosa importante è che eh il fatto di poter scendere giù in questo momento di essere qui nonostante ci sia come diciamo noi la fisica è dovuta proprio a come è localizzato questo ascensore gli altri esperimenti ovviamente hanno una seconda via di fuga è normale ma il secondo ascensore come vedete questo è è localizzato i due ascensori sono localizzati verso la caverna di servizio mentre invece negli altri esperimenti il secondo è localizzato oltre la caverna sperimentale il che vuol dire che potervi eh per potervi accedere bisogna attraversare la caverna sperimentale questo chiaramente nel momento in cui avete un allarme evacuazione eh i dipendenti eh i dipendenti le persone qui lo fanno perché sappiamo che se la dose radioattiva vi ricordo il dosimetro che uno può prendere è è è molto bassa quindi si può fare ma non vogliamo sottoporre ovviamente il CERN non vuole sottoporre i visitatori a un qualsiasi rischio eh e quindi si evita che si evita questa diciamo questo passaggio in una zona dove potrebbe esserci un residuo radioattivo e di fatto il CERN vieta di poter scendere eh nelle zone sotterranee nel momento in cui c'è la fisica se c'è la configurazione dell'ascensore che sta dall'altra parte l'unico esperimento che si può permettere di far scendere le persone tutto l'anno ehm qui eh nella visita underground è appunto CMS per questa configurazione che non non so in realtà se è una configurazione che è stata veramente pensata così ci sono altre cose che sono state pensate che io trovo molto pratiche intelligenti nell'esperimento CMS questa cosa non so se è stata pensata o se è casuale però di fatto ci permette di poter 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 lavorare le persone in ogni momento eh vuoi aggiungere qualcosa Davide oppure proseguo con i magneti kalian continuare con i magneti continuo allora bene mi sono mi sono portata un rivelatore di campo magnetico molto costoso attenzione perché dunque eccolo qua non so se lo vedete e non ridete perché lo so che state ridendo lo so lo so cosa ci facciamo con queste cose normalmente ci mettiamo i fogli di carta no eh le nostre graffette o come dicono in francese o come dicono in inglese le clips bene allora adesso cosa facciamo andiamo a sondare il campo magnetico ho sentito che Davide vi diceva che c'è un magnete qui ora noi ci avvicineremo di fatto dalla mappa di fatto quello che facciamo arriviamo nel punto più prossimo all'accesso poi ci dovremo bloccare quindi siamo qui ci arriveremo fino a questo angolo dopodiché saremo bloccati perché non possiamo fare questo corridoio per entrare nella caverna sperimentale qui ci fermeremo quindi come vedete una distanza di non più di cinque sei metri adesso lo faremo noi mi seguirà la mia catenella che come vedete in questo caso eh è una catenella non è per niente magnetizzata penso che lo possiate vedere naturalmente libera vediamo che cosa succede cioè mi avvicino sto andando verso l'angolo vi 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 consiglio di guardare la punta della catenella che cosa succede e non sono io vi assicuro eh nonostante mi chiami Sonia Natale non ho poteri magici e nemmeno miracolosi eccolo qua non so se riuscite a vedere come la catenella viene attirata adesso facciamo un po' di giochini allora la facciamo così vedete perché siamo vicini comunque nonostante i vari metri di cemento eccetera risentiamo ancora del campo magnetico residuo della del rivelatore ecco la catenella che si attacca alla porta eh proviamo a fare qualcosa facciamo un po' di cose simpatiche queste sono cose che normalmente ecco qua insomma si capisce che è una S diciamo che è una traccia di un muone non una S va bene il muone che vi mostrava che vi mostrava il muone in CMS che vi mostrava prima Davide ok con le due curvature vediamo un'altra cosa vedete questo pannello qui questo pannello qui non è magnetico ma le viti che ci sono sono magnetiche quindi ehm quello che vi faccio vedere sono cose che mi sono successe durante le visite in realtà non è che sono pensate eh non c'è stato nessuno che se le inventate sono esperienze che condivido eh la prima cosa che facevamo era questa una specie di pendolo vedete eh dopodiché una volta quello che mi è successo è che cercando di fare questa cosa mi si è attaccata anche la seconda graffetta così e questa rimane così ora eh ovviamente questo voi non potete provarlo ma in realtà io questa la chiamo la bilancia magnetica perché io spingo verso il basso ma vi assicuro che c'è si può sentire la sensazione della catenella che spinge verso l'alto è una specie di appunto eh cioè come se ci fosse una forza elastica che in realtà è dovuta alla forza magnetica ora perché parlavo di rivelatore perché effettivamente una volta volendo mostrare questo cosa è successo è successo che la catenella mi cadeva per terra ho provato una volta caduta per terra provato la seconda volta caduta per terra ancora la terza volta pensavo fosse colpa mia la terza volta ho detto dico bah non può essere quindi ho capito che il peso della catenella era troppo quindi ho rimosso alcuni alcune delle graffette e ha funzionato cosa ho fatto sono andata poi alla fine della visita in sala di controllo e sono andata a parlare poi se abbiamo tempo ci andremo un attimo se ci danno l'autorizzazione sono andata a chiedere al capo turno che si chiama lo shift leader e se che cosa stava succedendo con il campo magnetico quindi mi sono avvicinata questa persona lavorava al computer e gli ho detto posso fare una domanda non mi ha nemmeno guardata mi ha detto continuando a lavorare mi ha detto dice sì sì chiedi pure e gli ho fatto cosa succede con il campo magnetico e e questa persona si è bloccata improvvisamente mi ha guardata così e mi ha detto e tu come lo sai e io ho preso la catenella gli ho detto e sì lo so e mi ha detto sai stamattina abbiamo avuto dei problemi con il campo magnetico perché era di pomeriggio e quindi adesso stiamo usando metà dell'intensità massima quindi come vedete con una graffettina di questo genere io in realtà ho avuto modo di stimare il fatto che il campo magnetico all'interno era minore se potessi veramente associare ad ogni al peso di ogni graffetta eh il campo magnetico la quantità di campo magnetico cioè fare quello che si chiama una calibrazione della catenella io potrei davvero fare una misura ovviamente rozza non precisa ma potrei veramente fare una misura del campo magnetico che abbiamo all'interno del rivelatore tenuto conto che qui siamo a circa venticinque trenta metri dal centro del rivelatore quindi insomma è un campo magnetico residuo che comunque percepiamo quello che vedreste entrando di fatto un po' mi trovo io mi trovo da questo lato qua rispetto a questa figura e quindi bisogna andare al centro del rivelatore che è tutto chiuso eh un'altra cosa che posso farvi vedere che questo è un po' più comune ma qui è simpatica da far vedere ho questo piano spero che si veda è trasparente ma spero che si veda ci mettiamo la graffettina sopra e guardate che cosa succede abbiamo una bussola vedete la graffettina si orienta secondo le linee del campo magnetico ora non è un magnetino quindi non c'è nord e sud ma se io provo a metterla non lungo questa linea vedete lei si è orientata così ma provo a metterla a 90 gradi rispetto a questa linea vedrete che non ci sta non ci vuole stare sta soltanto vedete la posso ruotare di 180 gradi perché si riallinea ma non posso metterla a 90 gradi a 90 gradi sfugge e questa è una bussola ovviamente che risente ripeto del campo magnetico del 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 rivelatore e non del campo magnetico terrestre che in questo caso eh è meno eh è meno sensibile l'ultima cosa che vi faccio vedere poi vi parlo della porta e rito la parola a Davide perché cercherò eh ritornerò su eh e quest'altra cosa che mi è successo ovviamente giocando con le mie graffette una volta quello che mi è successo che cercavo le graffette la catenella e invece mi sono cadute tutte le graffette per terra io adesso non lo rifaccio perché altrimenti non so quanto sono fortunata però è successa questa cosa qua che secondo me è stata molto interessante e infatti ve la voglio riproporre non so se riuscite a vedere le graffette sul pavimento anche questa è una zona metallica ma in realtà anche sul pavimento vedete guardate questa e quindi quando io ho visto questa cosa qua eh al posto di dire oh che pasticcio ho combinato perché erano tante erano tutte così che cosa ho fatto ho preso una graffetta un po' più grande che ho qui e ho cominciato a giocarci e così vedete vedete che io non guardate ve lo faccio con la mano eh se faccio vento con la mano non si muovono eh quindi non è se si muovono al minimo al limite perché sono molto leggere ma se io faccio così come vedete e non le sto toccando questa è veramente di nuovo l'interazione magnetica il fatto che sono magnetizzate quindi io riesco a muoverle come vedete una volta ho avuto un gruppo di studenti che le ha messe tutte lungo questo tombino chiamiamolo così e vedete che anche sul pavimento in realtà eh le vedete che posso muovere in questa maniera ora le raccolgo questa operazione per esempio vediamo un po' se la se la faccio in questo angolo dove sono funziona perché abbiamo ancora le le graffette che sono magnetizzate se già la facessi il tombino ha circa diciamo sessanta centimetri di ve lo faccio vedere circa sessanta centimetri di diametro se la faccio dall'altra parte del tombino quindi a sessanta centimetri da qui questa cosa cade non mantiene quindi non so potrei anche provare vedete ho fatto una catenella che si mantiene già se mi muovo non funziona più vedete avete visto perché l'intensità del campo magnetico di cade esatto al quadrato della distanza giusto esatto quindi e quindi come vedete adesso per raccoglierle devo rifare devo riportarle nella zona eh della zona dove invece in realtà il campo magnetico è più intenso ci provo ed è difficilissimo adesso ci proviamo non so se ci riesco a farlo così sì ok recuperate tutte ok Davide io penso che a questo punto ehm magari descrivo soltanto un attimo l'entrata e dopodiché ti do la parola e ritorno su se non ci sono particolari domande qui dunque la porta è un'altra porta di entrata come vedete questa volta è di colore giallo perché sono classificate in maniera diversa gli accessi ci sono porte verdi porte gialle e porte rosse ma diciamo che l'accesso è lo stesso che cambia solo la classificazione nella zona in cui si trovano quindi qui stiamo per entrare nella caverna sperimentale è diciamo così più importante questa porta se volete e quando sono gialle l'accesso è controllato da ccc non da cms questa è l'unica cosa che cambia quindi chi controlla è veramente il gli operatori di di lhc questa è l'unica cosa che cambia esatto e e quindi qui adesso non possiamo entrare come vedete eh totalmente chiuso ma se per caso ci fossero degli accessi quelli e tipo come patrol vedete o restricted allora in quel caso cosa si fa si può ancora entrare ma bisogna dichiararsi quindi bisogna usare di nuovo il badge che dicevamo prima si aprono questi cassetti e ci sono delle chiavi diciamo così ecco qui si vede se li chiamiamo anche token uno prende questa chiave una sola ed entra e di fatto il circuito dell'lhc non può essere riattivato se questo questa chiave non torna al suo posto eh ovviamente tutto questo funziona eh se c'è una chiave per una persona perché se due persone entrano con una chiave poi la prima esce rimette la chiave a posta a posto e l'altra rimane dentro chiaramente il sistema non funziona più questo è di nuovo per ribadirvi quanto sono importanti le regole di sicurezza da dover rispettare voi magari penserete ma non è possibile che si faccia una cosa del genere eppure tanto tempo fa eh credo intorno al 1995 questa cosa è successa eh io ho mille giustificazioni per dire perché magari è successa me lo posso aspettare ma non doveva succedere ed effettivamente poi non ci sono state problematiche ma le persone sono state diciamo dichiarate non eh non gradite al CERN quelle che hanno fatto questa cosa perché effettivamente avevano ehm avevano non avevano rispettato una delle regole di sicurezza di base che è quella l'accesso nelle caverne allora vi saluto con questo simbolo che vuol dire prendo un po' di riposo no non è vero eh è il simbolo di asfissia quindi se questa lampada ehm questa lampada lampeggia vuol dire che c'è carenza di ossigeno comincia a lampeggiare quando la percentuale è il diciotto per cento sappiate che al quindici per cento di ossigeno all'interno di una stanza si sviene e si può anche morire quindi eh questo è un segnale che vuol dire fate attenzione perché ci potrebbe essere rilascio di gas e quindi pericolo di asfissia eh Davide direi che io torno sopra se non ci sono domande e curiosità in questa zona non so se vuoi chiedere se qualcuno vuole vedere qualcosa in particolare altrimenti io tornerai su c'è qualche domanda qualcuno vuole fare qualche domanda o vuole rivedere qualcosa magari non so di specifico se no torno su penso di no ci sono alcune domande al chat no ok ok perfetto perfetto allora io torno su pian pianino andiamo a controllare se la sala di controllo è accessibile e ci rivediamo sopra va bene ok vi posso spiegare come funziona un acceleratore io ritorno qui sul nostro slide allora noi abbiamo tutto inizia con una bottiglia di di idrogeno e usando un campo elettrico si e si levano i protoni dall'idrogeno e vengono accelerati prima su un acceleratore lineare e questo acceleratore lineare ha solamente un elemento che noi chiamiamo di radiofrequency cavi di cavità di radiofrequenza da un campo elettrico le particelle caricate lo sentono e lui ha una frequenza quello che succede immaginate che io sono questa quantità questo questo elemento che da campo elettrico io attraggo tiro i protoni o qualsiasi particella che ha carico poi quando arriva da me io lo spingo perché cambio il mio campo elettrico allora funziona più o meno così una l'acceleratore qua abbiamo uno questo è l'acceleratore dell'app che era l'acceleratore che esisteva sullo stesso tunnel nel 90 poi abbiamo un altro lì che è quello attuale la differenza è che quello attuale è superconduttore e quello antico questo qui e non è superconduttore il poi vi spiego quella la differenza di lhclf ma quindi abbiamo questo bisogno di queste questi elementi che danno il campo elettrico non so se vi ricordate la forza di lawrence che c'è una componente lineare quindi significa nella stessa direzione spingi col campo elettrico quindi acceleri e quindi acceleri le particelle sul sull'acceleratore lineare c'è bisogno solo di questo elemento poi se noi ritorniamo sulle slide abbiamo già i primi acceleratori circolari quindi dopo l'inac già abbiamo 30 per cento della velocità della luce quando vanno al booster quindi stiamo qua l'inac 2 vabbè adesso è 4 ma 2 l'inac 2 val booster e è già il primo acceleratore circolare e già stanno le particelle a 90 per cento 91 per cento della velocità della luce come funziona un circolare un po' differente già ci sono altri elementi che sono gli elementi magnetici perché elettrico accelera però hai bisogno di elementi che cambiano la direzione che sono nella forza di lawrence per cambiare la direzione quella perpendicolare il campo magnetico quindi noi usiamo dei magneti che sono chiamati dipoli quindi ha il movimento senti il campo magnetico aspetta ve lo faccio così movimento campo magnetico sotto e giri a sinistra per voi a destra e quindi il campo magnetico è importante per fare con che le particelle fanno questo giro e ci sono pure altri elementi si chiamano quadripolo e quelli quei 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 quadripoli sono importanti per lasciare il fascio stabile perché noi non acceleriamo un un proton noi acceleriamo un gruppo di protoni quindi hanno una loro a sonia ci sta facendo vedere sì ci sta stiamo sentendo questa cosa interessantissima che mostravi non ho potuto veramente evitare di fermarmi qui questo è l'interno di uno dei grandi magneti di cui vi stava parlando Davide e che permette di generare la forza di lawrence per curvare le particelle allora dunque questo è il tubo dei fasci il tubo dei fasci è totalmente avvolto da cavi i cavi sono questi qua come vedete da questa parte qui e ora qui li vedete tagliati perché ma in realtà sono è tutto coperto e vanno lungo tutto il tubo quanto è lungo questo tubo per ogni elemento sono circa tredici metri dai tredici ai quindici metri ora si riconosce che è un campo dipolare quindi che può produrre una forza di lawrence perché se voi lo guardate bene vedete che qui c'è una un taglio in realtà c'è anche sotto abbiamo due gruppi di cavi un gruppo qui e un gruppo qui ora qui li vedete tagliati ma immaginate che proseguono eh quindi avete un dipolo quindi cosa succede il vettore velocità della particella va in questo senso producete un campo magnetico in questo senso scusate io sono non posso farlo da mancina lo faccio così vettore velocità vettore campo magnetico e la forza che tira verso questa parte quindi curvate la traiettoria della particella in questa maniera ok questo è il dipolo per farvi vedere un tubo dell'LHC eccolo qua questo è ovviamente questo è in esposizione ma è un oggetto vero eh non è una 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 riproduzione eh è un tubo dell'LHC questo è tagliato per farvi vedere come è fatto all'interno beh ci sarebbero tante cose da dire in questo momento non è siamo quasi alla fine della visita non abbiamo abbastanza tempo però come vedete ha una certa struttura e soprattutto quello che diciamo che è che forse è più curioso è il fatto che la sezione di questo del tubo lo vedete abbastanza grande cioè insomma sui quattro tre quattro centimetri mentre invece la sezione trasversale del fascio è di poche decine di micron e meno di un capello umano però chiaramente avete particelle tutte dello stesso segno che tendono a come dire ad allargare la sezione trasversale del fascio e quindi è ovvio che volete avere molto più spazio dopodiché in questo tubo con questo elemento noi curviamo la traiettoria mentre invece abbiamo altri elementi dove i gruppi non sono due ma sono quattro gruppi io non so se abbiamo un esempio da qualche parte dietro c'è dietro di te c'è una foto di un quadripolo bianco che è il colore LHC dietro di te penso che ci sia una foto di un quadripolo no quello è ancora un dipolo no 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 accanto accanto c'è scritto squeeze no focus ah sì però non si vede all'interno io cercavo la foto all'interno se vediamo qua lo vediamo meglio sì no cercavo allora questo eccolo qua no si vede qua eccolo qua sì eh vedete allora se queste due parti fossero tutte unite avremmo un dipolo ma vedete che qui abbiamo anche un'altra sezione quindi in realtà abbiamo uno due tre e quattro il quadrupolo è quello che permette di schiacciare se pensate alla sezione trasversale di schiacciare in verticale o schiacciare in orizzontale il fascio in modo tale da ridurre la sezione la sezione del fascio trasversale talmente importante che ha un nome correggimi emittenza emittanza giusto tu che sei un esperto Davide si è l'emittanza del fascio ed è talmente importante che appunto abbiamo abbiamo un nome vogliamo avere la più piccola emittanza possibile per quale motivo un motivo è perché così è più è più facile dirigere il fascio all'interno del tubo e un altro è proprio di fisica più riuscite a focalizzare e più la densità di particelle aumenta cioè e quindi quando fate una collisione aumentate il numero di collisioni l'importanza del quadripolo sì ma pure è importante che senza quadripolo non ci sarebbero fascio su LHC perché c'è un effetto di dispersione quindi tutte le come i protoni non sono accelerati uno per uno ma in gruppo quando passano per questi dipoli quelli questi che fanno la curva che sentono il campo magnetico di forme differenti perché hanno il suo volume in spazio ma anche in momento in energia quindi loro si spagliano si hanno una dispersione in spazio quindi hai bisogno di focalizzarli quindi se focalizzi con un quadripolo che focalizza così però sfocalizza dall'altra parte poi hai bisogno di un altro che focalizza dall'altra parte e sfocalizza dall'altra e hai tipo come se fosse un pendolo un'oscillazione armonica e quindi così mantieni il fascio stabile dentro l'LHC senza questi elementi non ci sarebbe il fascio quindi in LHC i protoni fanno 11.000 giri in un secondo quindi si fanno 27.000 km per 11.000 in un secondo quindi non hai bisogno di tanto acceleratori ma hai bisogno di tanti dipoli e quadripoli per fare la curva e lasciare il fascio stabile noi abbiamo qua un acceleratore una sezione dell'acceleratore di LHC che si può vedere da qui e la differenza da quello di LHC e dal LEP è che il LEP accelerava elettroni quindi hai bisogno di tanti di questi perché gli elettroni perdono energia ma qua LHC ha bisogno solo di un punto per accelerarli e tutto il resto è fatto dai magneti, dai dipoli e Sonia vuoi continuare? Allora io sento tantissimo domande Sonia da me mi sento qualche domanda? se ci sono delle domande avete delle domande? io avevo chiesto prima c'è stata una verifica effettiva delle procedure di sicurezza mi sta colpendo molto l'attenzione a questo aspetto in effetti sono state già verificate? cioè verificate in che senso? cioè prima dell'applicazione? no 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 dopo l'applicazione ci sono stati diciamo incidenti che hanno consentito allora di quello che io memoria nel senso non memoria personale memoria raccontata e appunto questo caso di due tecnici e una persona dell'esperimento ma era LEP era L3 era LEP dove sono entrati in tre con una chiave ora io posso anche capire la situazione perché quando si deve entrare in caverna e si è all'ultimo momento e si devono fare dei lavori e poi i tecnici che arrivano da fuori a volte hanno tempi ristretti con treni che partono, aerei che arrivano e cose del genere quindi a volte se c'è molto lavoro in caverna quello che succede è che c'è necessità di accedere perché si dovrebbe aspettare però d'altro canto c'è la necessità di accedere e di procedere quindi io penso che loro in maniera comunque non corretta siano entrati e sono entrati con una chiave in tre dopodiché la persona dell'esperimento non ha più trovato tecnici che forse non so che cosa avevano fatto, non erano nascosti da qualche parte il fatto sta che è risalita sopra rimettendo la chiave il fascio era già, non erano in collisione, il fascio era iniettato, erano in injection cioè quando iniettano il fascio le cominciano a preparare il fascio per poter poi accelerarlo e fare le collisioni e quello che è successo è che si sono spente le luci in caverna perché ovviamente non c'è bisogno di luci, non c'è nessuno, a cosa serve? non si vede nulla, quindi si spengono, anzi le luci danno anche fastidio perché sono dei fotoni che vanno nel rivelatore quindi danno fastidio alle misure, i tecnici si sono resi conto che c'era qualcosa, non potevano lavorare quindi sono andati, non c'erano telefonini, parliamo del 95, qualcosa del genere per cui sono andati al primo telefono a muro perché sapevano dove fosse, avevano ovviamente delle torce e hanno telefonato in superficie dicendo scusate noi dobbiamo ancora lavorare perché avete spento le luci, cosa succede? e lì c'è stato il bottone d'emergenza, cioè praticamente il famoso bottone rosso che ovviamente ferma la giostra proprio tutta, non solamente nell'esperimento, tutto e lì poi c'è stata tutta una procedura per quanto mi riguarda che io ne sappia non ci sono altri casi di incidenti di questo genere e come vedete questo è un incidente, in realtà non è neanche un incidente, è qualcosa dovuto veramente a un bypass umano e poi c'è adesso un sistema di suono se c'è un iniezione imminente, suona una sirena tre secondi, dieci secondi, ferma ferma, poi dieci secondi per qualche minuto però devi sapere che vuol dire questo se tu sei un tecnico che viene da fuori no, 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 tutti fanno il corso tutti fanno il corso in realtà questa sono due sirene, questa e quella di evacuazione quella di evacuazione che è il contrario dieci secondi di suono e quella tre secondi giù comunque una cosa è certa noi dobbiamo fare diciamo regolarmente dei corsi di sicurezza che sono corsi di sicurezza appunto per ricordarci, per rinfrescare queste informazioni per essere primo soccorso anche se poi non è che possiamo fare molto ma comunque dobbiamo essere primo soccorso per saper usare estintori io direi che il messaggio che mando ai ragazzi è che nel momento in cui si entra si dovrebbe essere sempre attenti come ho detto e sempre buoni osservatori anche quando si attraversa la strada però nel momento in cui si entra in un laboratorio anche quello di scuola bisogna sempre fare attenzione a quelle che sono le conseguenze delle proprie azioni io questo non l'ho imparato qui all'HC ma per esempio l'ho imparato lavorando per quest'altro, per l'esperimento di cui vi parlavo prima nella camera pulita cioè dove si costruiscono in ambiente direi asettico se volete si costruiscono alcuni pezzi dei rivelatori e quindi quando si lavora lì si lavora con cose fragili con cose delicate l'approccio è il seguente prima si fa veramente un film di quali sono le proprie azioni in maniera tale da poter immaginare le eventuali conseguenze non so, se io ho un oggetto fragile non passo con un non so, per esempio con una pinza al di sopra dell'oggetto fragile perché anche se la tengo bene in mano potrebbe scivolarmi per qualsiasi motivo quindi passo accanto e allora si fa veramente il percorso mentale di quello che si deve fare della procedura e dopo, quando sei sicuri la si esegue a quel punto diventa veramente difficile poter sbagliare e ci si e poi non lo so questo aspetto delle regole della NASA cioè della sicurezza direi che mi è venuto anche lavorando con la NASA perché vi posso garantire che ogni vite ogni giro di vite dell'esperimento che è sulla stazione spaziale che tanto è facile da ricordare perché questo è CMS e quello è AMS quindi ve lo ricordate è stato registrato perché voi sapete forse conoscete la frase no? Failure is not an option ma se succede qualcosa di grave si deve avere traccia di tutto quello che è successo soprattutto perché molti dei voli quando si mandano le cose in orbita sono con persone quindi non si vuole certo generare un incidente quindi abbiamo dovuto siamo stati veramente sottoposti vi dico solo che un pennarello per poter scrivere numeri da 1 a 40 ho dovuto aspettare due mesi per sapere quale tipo di pennarello e quale inchiostro si poteva utilizzare perché ovviamente nell'inchiostro ci possono essere bolle d'aria acqua e quando si va nel vuoto chiaramente queste cose cambiano di struttura perché ovviamente c'è una varia di azione di pressione quindi le regole di sicurezza diventano uno stile di vita anche quando cucino adesso se taglio una cipolla faccio prima il percorso e poi decido come farla ormai è diventato uno stile però fa parte della nostra cioè quando sei sperimentale probabilmente fisico teorico no ma quando sei un fisico sperimentale sei molto molto ti viene naturale poi non è non è difficile viene naturale ormai chiaro gli errori umani ci sono sempre ma comunque a mia memoria gravi non ce ne sono stati altri altre domande? qualche altra curiosità? eh sì noi abbiamo abbiamo una sì eh prima avete ho sentito che avete parlato di antimateria sì perché ok cosa viene studiato dell'antimateria lì al CERN? ok io vi spiego prima che cos'è l'antimateria penso che sia più importante capire che cos'è l'antimateria l'antimateria sono le particelle che hanno i numeri quantici opposti a quelle della normale materia quindi per esempio l'elettrone la sua la sua antiparticella è il positrone significa che c'ha la carica opposta se l'elettrone ha la carica negativa l'elettrone ha la carica positiva scusa l'elettrone negativa l'elettrone positiva e e altre proprietà quindi opposte i numeri quanti ci sono opposti e ma questa l'antimateria va di moda penso più per il libro di Dan Brown che altre cose eh ma è stato scoperto nel 32 1932 da Anderson nel Brookhaven penso quindi c'è stato due premi nobel per l'antimateria uno nel senso la camera nebbia che poi ha permesso la scoperta ha ricevuto due premi nobel quindi e Dirac non so se ne avete sentito parlare è il papà teorico dell'antimateria quello che ha pensato questa cosa e quindi non è che sia una cosa recente o no no è una cosa vecchia vecchia però tiriamo la zappa sui piedi perché dopo cento anni praticamente non ci sono ancora capito niente o quasi nel senso c'è molta la media gli piace parlare dell'antimateria perché ha un effetto si chiama manipulazione quindi quando la materia trova la sua antimateria produce due fotoni con la stessa energia che aveva le due particelle iniziali quindi sono molto radioattivi quindi e quindi sul film di Dan Brown hanno fatto una bomba di antimateria o qualcosa del genere però oddio allora diciamo sì che per la per la per la fantascienza è un argomento che come dire è hot si ma semplicemente anche perché sembra molto esotico parlare di antimateria dopodiché invece nel mondo reale uno scopre come diceva lui che abbiamo i positroni che non sono altro che anti elettroni e questi positroni innanzitutto li troviamo naturalmente nel senso voi prendete un isotopo del sodio il sodio 22 lo mettete in una non so in un barattolo e dopo un po' vi troverete tanti positroni all'interno del barattolo perché c'è un'emissione radioattiva di positroni naturali quelli che vengono chiamati beta positivi ma ci facciamo ancora di più non so se avete sentito parlare della PET dell'indagine medica che si fa negli ospedali questa che non voglio chiamarla radiografia perché non è una radiografia però in effetti dà delle immagini del corpo e soprattutto ci permette di studiare gli organi mentre funziona adesso non ho tempo per spiegare la tecnica ma comunque noi l'antimateria la usiamo per fare le indagini mediche ora cos'è che veramente invece noi cerchiamo ancora dell'antimateria è che le antiparticelle come vi diceva Davide quelle le troviamo anche allo stato naturale il problema è che non troviamo corpi fatti di antimateria non posso chiamarle anticorpi se no sembra una cosa diversa corpi fatti di antimateria cioè antistelle antipianeti e non antisonie e non li stringerò di mano a mano perché sennò pure energia non li troviamo naturalmente non li abbiamo ancora rivelati e ci chiediamo perché visto che dal momento del Big Bang noi assumiamo perché nulla ci vieta di assumere cioè non c'è nessuna legge fisica che ci dice no non puoi dirlo che si sia prodotto 50% di materia 50% di antimateria quindi dove è andata a finire questa antimateria che è stata prodotta al momento del Big Bang non siamo ancora riusciti a venirne a capo allora al CERN per esempio abbiamo tutta la zona dell'antimateria che sono la la chiamiamo la fabbrica degli antidrogeni antidrogeni a D dove abbiamo praticamente produciamo degli antidrogeni e lì cerchiamo semplicemente cioè semplicemente diciamo la possibilità di accelerare di rallentare un rallentatore cerchiamo di togliere energia per poter far formare l'antidrogeno perché altrimenti non si forma togliamo agli antiprotoni abbiamo dei positroni dal sodio abbiamo degli antiprotoni che li produciamo noi però li dobbiamo privare della ruola energia per fare in modo che si formi questo antidrogeno che in fondo non è altro che un idrogeno con un antiprotone e un antielettrono ma la cosa importante è che cerchiamo semplicemente dal punto di vista concettuale in maniera complessa dal punto di vista sperimentale quindi di nuovo la tecnologia che ci blocca di capire quali sono le differenze tra un idrogeno e un antidrogeno perché se differenze ci sono magari possono giustificare per quale motivo l'idrogeno lo troviamo allo stato naturale stabile l'antidrogeno invece è instabile non esiste un'altra cosa è proprio l'esperimento AMS che invece è installato nello spazio e cerca invece fa ricerca di corpi di antimateria come antistelle nell'universo perché magari nel momento del Big Bang l'antimateria si è creata ma è stata non so scagliata in una zona dell'universo che non abbiamo ancora osservato e quindi vale la pena di andare a vedere se effettivamente questi agglomerati di antimateria ci sono oppure no stato dell'arte nulla di significativo né dalla parte della zona dell'antimateria dell'antidrogeno dieci candidati cioè dieci possibili antiatomi di elio da AMS ma con dieci non fate statistica perché uno all'anno sono undici anni che AMS sta nello spazio quindi non si può dire che è una scoperta e l'ultimo è l'LHCB che invece sta sull'LHC è uno degli esperimenti che si fa tante cose però diciamo una molto semplice è quella semplicemente di fare dalle collisioni vede se si produce più materia o più antimateria più particelle o antiparticelle effettivamente sembra che ci sia una piccola discrepanza tra si producono più particelle che antiparticelle ma non è così tanta da giustificare questo 50% che ci manca quindi di fatto stiamo a bomba cioè non abbiamo capito cioè sappiamo che esistono quindi diciamo che la teoria è giusta sappiamo che esiste l'antimateria ma non abbiamo ancora capito bene come funziona e questo è uno degli hot topics dal punto di vista scientifico invece che apre una prateria direi per giovani come voi se ci volete venire a trovare e implicarvi in questo campo io non so quanto tempo ancora abbiamo se c'è spazio per altre domande oppure ci sono altre domande prima di tutto sì noi ne abbiamo una una domanda cioè non ho capito riguardo al fatto che si era stato fermato tutto durante quella specie di incidente delle tre persone che erano entrate con una chiave cioè che rischio correvano nel restare giù e perché si è dovuto spegnere tutto invece che per il buio ma tu ci staresti dove sta un acceleratore no allora iniezione non so era l'app veramente e allora l'app elettroni quello c'è la radiation sì allora i magneti che ti ho detto è quello che fanno fare la curva ogni volta che ci passano emittono radiazione non solo l'acceleratore l'acceleratore non c'è radiazione ci puoi stare accanto però ti sconsiglio però i magneti si protegge sempre i magneti no i magneti già produci radiazione quindi altamente radioattivo dipendendo dall'energia che di iniezione non tanta però se stesse il bello dell'app che non c'era bisogno di questi altri acceleratori che vi stavo facendo vedere prima c'erano acceleratori prima di LHC perché abbiamo bisogno di acceleratori più piccoli fino ad arrivare all'energia finale vi stavo spiegando però mi sa che alla fine non vi ho spiegato tutto ci sono altri acceleratori più grandi più grandi arrivare a LHC l'app no l'app inizia proprio da energia zero e va fino all'energia nominale all'energia finale quindi significa che stavano iniezione l'energia era ancora bassa per avere qualche problema più di salute diciamo che se fossero rimasti dentro comunque insomma molto semplicemente è un ambiente dove si produce della radiazione che non dovete immaginarvi di una radiazione come una centrale nucleare ma comunque è una zona radioattiva non ha senso non c'è nessun motivo per cui una persona debba stare ecco di nuovo la fantascienza in cui fanno vedere come si chiama ho visto recentemente un film della Marvel in cui c'è quello lì che sembra tutta no era l'uomo ragno ho visto che cos'era dove c'è quel tizio tutto sabbia che è stato sottoposto ad una entrato dentro un acceleratore non so che cosa gli è successo è stato dematerializzato il vantaggio dell'app è che quello lo accendi lo spegni non c'è non attiva non c'è l'attivazione protoni sì i protoni attivano il materiale quindi c'è una radiazione residuale se lo spegni devi aspettare pure qualche oretta però quello non era era gravissimo quello che è successo però spegni non c'è più nessun rischio può entrare direttamente diciamo così una volta che uno spegne può entrare direttamente nella caverna però ripeto non ha senso stare proprio nella caverna il problema è stato veramente cioè non solo ovviamente di salute ma è stato proprio un problema veramente di non rispetto del protocollo se volete facendo un parallelo lo stesso problema che si è creato quando all'inizio dei voli dello shuttle della NASA si mandavano vabbè avrete sentito vuoi parlare c'era stato un volo in cui era stata mandata quello che poi ha avuto il grave incidente alla partenza anche una maestra elementare si voleva fare veramente già dall'inizio turismo spaziale si mandavano specialisti scienziati diciamo così il problema è che normalmente la persona che ne capisce vuole anche cambiare quindi i protocolli che vengono eseguiti migliaia di volte quando poi uno arriva su e trova che magari c'è non so una sequenza di azioni che vanno fatte che però potrebbe essere migliorata per farla più velocemente allora ci mettiamo noi noi ecco noi ricercatori siamo quelli che diciamo funziona meglio in quest'altra maniera facciamolo nell'altra maniera questa è una cosa che non è consentita infatti dopo che è successo qualche volta nei voli dello shuttle hanno chiuso l'accesso ai puri ricercatori e hanno cominciato a mandare tecnici scientifici ma che avessero fatto un percorso militare quindi di fatto tutte le persone che vanno su tuttora adesso eh almeno quelli che riguardano la NASA hanno comunque un percorso di tipo militare perché perché tu hai una procedura e tu la segui la procedura dopodiché se ritieni che ci sia una procedura migliore quando torni a terra la sottoponi ad una commissione questa procedura viene controllata migliaia di volte e se funziona meglio viene approvata ma fin tanto che sei in missione tu devi seguire la procedura che ti è stata data quindi questa questa maniera questo approccio deve essere qualcosa che deve essere fatto non solamente quando si sta nello spazio ma anche quando si sta su terra è su cose semplicissime perché tutto può succedere ok bisogna quindi ecco perché ripeto lì c'è stata proprio veramente è stato veramente un esempio lampante di non di non seguire le procedure che erano in vigore oltre al possibile anche se non gravissimo danno di stare dentro questo adesso si pesano le persone uno prende solo una chiavetta è full proof lo chiamo full proof è a prova di pollie esatto altre cose altre domande se non ci sono altre domande non so perché avevamo detto undici e mezza ma non so ditemi voi noi che avviciniamo la fine dell'ora dobbiamo spostarci quindi noi dobbiamo chiudere va bene va bene allora noi speriamo che insomma comunque il giro vi sia piaciuto che sia stato interessante vi aspettiamo qui chiaramente per una visita anche dal vivo davvero non avete nel senso è chiaro che il virtuale sembra un po' diverso però di fatto non è che avete poi perso molto perché per esempio voi avete avuto una visita che è stata più lunga di quella che normalmente è la visita che si fa quando siete di persona quindi abbiamo avuto maggiore tempo per poter far vedere ecco giocare con le graffette per parlare con voi quindi c'è sempre un vantaggio a fare la visita virtuale rispetto a quella di persona sappiate comunque sono ragazzi dell'ultimo anno? sì due ok allora sappiate ragazzi che come vi ho detto precedentemente insomma qualsiasi sia il vostro percorso rimaniate curiosi e comunque per quelli che decidono di fare un percorso scientifico abbiamo anche dei programmi quel CERN che sono i programmi di studenti d'estate potete fare applicazioni per venire a passare a fare uno stage qui ci sono vari programmi adesso quindi ce ne sono anche di una settimana o di più tempo non guardate sempre sul sito del CERN perché le occasioni per venire a lavorare qui sono tante anche chi volesse fare l'avvocato perché abbiamo bisogno anche di avvocati abbiamo bisogno di medici abbiamo bisogno di ingegneri civili come avete visto giornalisti comunicazione quindi è una piccola una piccola una comunità in cui girano intorno all'incirca 20.000 persone in cui la più bella esperienza che io vi posso dire non so se Davide è d'accordo con me è il fatto di potersi incontrare con tutte le culture e di lavorare insieme indipendentemente da quale sia il colore politico il credo religioso e le convinzioni quando si lavora per un progetto sia che si faccia si spolvera il tavolo che si faccia la grande teoria alla fine ci si sente parte di quel progetto ci si sente importanti e questa è la cosa che più manca le persone che partono poi da qua normalmente gli studenti quando hanno preparato la valigia ci devono dire arrivederci o meglio ci dovrebbero dire ciao ciao non si sa se ci rivediamo invece ci dicono intanto arrivederci quando posso tornare ce lo dicono prima ancora di ripartire quindi secondo me è un'esperienza che comunque va fatta una volta nella vita ve la ritroverete da raccontare poi ai nipoti non lo so se non decidete di fare il 15 non so voglio aggiungere qualche altra cosa altrimenti loro hanno il nostro email possono pure inviare qualche domanda se avete qualche domanda siamo contenti a rispondere esattamente grazie e comunque ragazzi incrociamo le dita per si dice lo so che adesso se dico in bocca al lupo non so cos'altro potrei dire un'altra cosa non so se si dice ancora tanto comunque distruggeteli agli esami eh fate il vostro meglio d'accordo tutto il meglio per la vostra maturità grazie 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 a tutti